Ciao a tutti ragazzi, sono Cinzia, la vostra fitness fitness trainer dal centro fitness SGT Sport nel cuore della cittadella dello sport di San Buceto. Da oggi non abbiamo più scuse, la UISP si allena in casa con te. Ciao ragazzi, felicissima di essere qui di nuovo con voi. Oggi addome, tappetino come sempre, forza e tanto coraggio. Faccio partire la musica. Iniziamo subito con un semplice crunch. Mani dietro la nuca, domiti aperti, addome attivo. 5, 4, 3, 2, 1, go. Pronte al soffitto, guarda sempre in alto, fuori l'aria quando sali, ispira dalla bocca e ispira quando vai giù. Fuori, fuori, fuori. I gomiti sono sempre ben aperti. Appoggio bene la pianta del piede al tappetino. Recupero, spieghiamo l'esercizio successivo, B-cycle crunch. Quindi siamo qui, portiamo le ginocchia al petto e nel momento in cui incrociamo il braccio, avviciniamo il ginocchio opposto. Prepariamoci. Go ragazzi, vado. Hop, 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 hop. Vai. Distendi la gamba. Benissimo, continuiamo. Vai. Non mollare. Solo se carichi la schiena, senti un dolore sulla schiena, puoi fermarti e recuperare. 3, 2, 1, rest. Recupero. Aumentiamo l'intensità ragazzi. Mani sul capo, spinta, apro e scendo. Roll up. Pronti? 5, 4, 3, 2, 1. Vado. Grotola la schiena ogni volta. Non tenere la schiena rigida. Non tenere la schiena rigida. Vai. Apri. Apri le spalle e avvicina le scapole. Vai. Attiva il dorso. Insieme. Vai. Benissimo. Prossimo esercizio. Plank. Ci siamo? Ripariamoci. Le mani sono sotto le spalle. I piedi sono aperti. Larghezza bacino. Ci siamo? Vai. Attiva l'addome. Fortissimo. I glutei, le gambe. Le mani sotto le spalle spingono un po' sul tappetino e scendono verso il bacino. Fronte piatta. Forza, forza, forza. Mantieni. Ispira in ed espira es. Tutto il retto dell'addome con gli obliqui. Fortissimi, ragazzi. Non perdere mai la respirazione e non andare in apnea. Bravissimi. Butterfly prossimo esercizio. Portiamo i piedi uno contro l'altro. Andiamo giù. E un crunch. E tocco in avanti. Pronti? Go. Vai. Vai. Batti ogni volta. Non avere fretta. Non correre. Ma controlla sempre respirazione. E addome. Inspira. E fuori. Vai. E fuori. Vai. Batti. Forte. Vai. Ci siamo. E abbiamo finito anche questo. Posizione. Andiamo giù, ragazze. Giù la schiena bene a terra. Sollevo le spalle e il capo. E tocco il piede. Insieme. Vado. One. Go. Vai. Vai. Piccolo e veloce. Benissimo. Ci siamo, ci siamo, ci siamo. Forza, ragazzi. Non mollare. Vai, 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 vai. Vai. Benissimo. Vai. Avvicina la mano al piede. Vai, 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 vai. Ci siamo quasi. Bravissimi. 3, 2, 1. Stop. Ok, ragazzi. Plank commando. Quindi posizioniamo gli avambracci a terra. Andiamo in posizione di plank. Ci siamo, aspettiamo qui insieme. 5, 4, 3, 2, 1. Vai. Sali e scendo. Cambia il braccio ogni volta che sali. Quello che arriva riparte. Ci siamo? Vai. Bravissimi, ragazzi. Vai, 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 vai. Molto bene. Attiva tutto il retto dell'addome insieme agli obblighi. Ok, recupero. Molto bene, ragazzi. Prossimo esercizio. One leg stretch. Posizione. Cambio gamba ogni volta. Recuperiamo. Pronte? Go. Go. You are world of love. Ti stendo, recupero un attimo, bene, posizione, occhio, crunch, twist, ultimo. 5, 4, 3, 2, 1, vai! Vai, vai! Attenzione, piccolo movimento di rotazione del tronco, attiviamo gli obliqui. Benissimo, mantieni i piedi. 3, 2, 1, rest. Anche oggi è fatta. Anche oggi è fatta. Anche oggi è fatta. Grazie a tutti